Ciao, ti aspetto domenica 8 agosto alle 18.30 in Val Chiusella per la bellissima manifestazione promossa da Cinema Ambiente, le date sono dal 3 al 9 agosto, il mio appuntamento insieme al sindaco di Rueglio, la dottoressa Gabriella Lafail, è l'8 alle ore 18.30. Capirete come si può spiegare in 6 mosse vincenti il lutto. Presento nell'occasione cosa fare, cosa dire nel tempo del lutto il bambino e ragazza adolescente e il lutto dell'animale domestico scritto assieme dal mio collega Paola Cavagnetto. Vi aspetto, anzi vi aspettiamo, a presto!